Una parabola è un racconto simbolico, un condensato di saggezza, di vita, che è messo davanti come uno specchio, per metterci davanti e per permetterci di guardarci meglio, direi dentro e fuori. A che cosa serve una parabola? La parabola non è lì per giudicare ma per guidare, è lì per aprire gli occhi su quegli aspetti di noi che forse non vediamo, sia per l'abitudine, sia perché sono in una condizione di vita che somiglia all'angolo cieco, che è mortale. La parabola serve per tirar fuori la parabola di vita che è in ognuno di noi. Pablo Neruda disse ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo, ha bisogno di qualcuno che con la meraviglia e l'incanto negli occhi la legga e gliela racconti. Ecco, le parabole che ho scelto penso che servano proprio a questo, a permetterci di leggerci dentro, di leggere la vita e di aprirci agli interrogativi, là dove ci illudiamo di avere i surrogati di risposta.